Una visita istituzionale prestigiosa stamani a Bagheria dove è giunta la ministra delle politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova, intervenuta presso i nuovi locali del mercato ortofrutticolo realizzati negli stand dell'ex SACOS sulla strada statale 113. Si è trattato di una sorta di inaugurazione anticipata di una struttura che darà possibilità occupazionale a sei imprenditori locali, tanti quanti saranno gli stand che saranno messi a concorso. Questa sua visita a Bagheria che importanza assume dal punto di vista non soltanto politico ma anche e soprattutto dell'attenzione al territorio? È una vicinanza al territorio che io voglio ribadire. Quando sono stata nominata ministra mi sono impegnata a stare in Sicilia una volta al mese e così stiamo facendo e voglio stare in Sicilia non per fare passeggiate ma per stare dentro i luoghi dove si produce la ricchezza, dove si crea lavoro, dove si rende il paese più competitivo perché questo è quello che devono fare gli uomini e le donne che hanno la fortuna di svolgere una funzione che incide sulla vita delle persone, che incide sulla vita delle imprese, che può determinare una migliore condizione per i ragazzi e le ragazze in modo particolare per quelli del mezzogiorno. È una fase in cui i politicanti amano discutere su come posizionarsi, su come difendere se stessi, noi continuiamo a dare un contributo nel merito delle questioni. E proprio oggi mi piace qui a Bagheria dire che lanciamo il decreto sui distretti del cibo perché noi vogliamo stare vicino alle imprese che investono, che investono in qualità, che garantiscono non solo prodotti buoni per il nostro palato ma garantiscono prodotti buoni per la nostra salute. C'è il riconoscimento di una filiera che non appartiene al passato ma al futuro. Chi pensa che l'agricoltura è un settore marginale fa bene a ricredersi e a ricredersi rapidamente. L'agricoltura e l'agroalimentare sono il settore del futuro e io nella mia funzione di Ministra voglio garantire a chi ogni giorno si rimbocca le maniche e dice a noi tocca le migliori condizioni per competere in un mondo dove le regole devono essere rispettate. Questa iniziativa del Comune di Bagheria può ridurre il gap che c'è con le aziende del Nord? Sicuramente questo è l'obiettivo che tutti ci dobbiamo prefiggere, dobbiamo lavorare perché ci siano sempre più strutture che aiutano in modo particolare le piccole e le micro imprese. Che è la ragione per la quale mi sono impegnata per esempio con l'Inail a finanziare un bando, mentre tanti chiacchierano, a finanziare un bando di 40 milioni di euro destinato a chi? Destinato a quelle micro imprese che spesso non sono in condizione di poter cambiare il loro parco macchine e questo incide sulla competitività dell'impresa ma incide anche sulla salute e sulla sicurezza perché quando c'è un incidente, magari un incidente grave, gravissimo e vediamo una persona di una certa età, un ragazzo o anche una persona anziana ci dobbiamo porre il problema. Ma il mezzo con il quale stavo lavorando era l'ultimo che ci dà garanzie, la ricerca, la scienza, le innovazioni tecnologiche che garantiscono anche la salute delle persone oppure per difficoltà economiche si va avanti con mezzi che appartengono a un passato dove non c'erano tutte quelle accortezze per metterci nella condizione di lavorare più sicure. Questo è quello che stiamo facendo e quindi ogni intervento e dove ci sono amministrazioni, amministrazioni attente a questo settore io credo che c'è davvero la buona politica. Presenti anche i tre operatori economici che attualmente svolgono la loro attività commerciale negli stand di Contrade in Corvino che sorge nelle immediate vicinanze del centro comunale di raccolta. Giacomo Di Salvo, Benedetto Di Stefano e i fratelli Maggiore, definiti dal sindaco Tripoli i sopravvissuti al precariato dell'ortofrutta ma che presto troveranno una sede dove svolgere tranquillamente la loro attività. Siamo onorati di poter incontrare e ricevere il ministro della politica agricola ed è un'occasione di confronto sul sistema dell'ortofrutta in Sicilia e soprattutto a Bageria poiché grazie alla regione a breve realizzeremo a Bageria il primo mercato dell'ortofrutta totalmente al coperto della Sicilia occidentale. È un momento di confronto, col ministro poi visiteremo alcune aziende del territorio non solo di Bageria ma del comprensorio. È un'occasione per confrontarsi, il comune ha necessità di confrontarsi con la regione e con lo Stato e grazie a questa sinergia sul territorio bagherese sono convinto che sull'ortofrutta ma anche su un settore importante come quell'agricolo a breve ci saranno importanti novità. In modo particolare ci saranno ricadute per quanto riguarda l'occupazione? Assolutamente sì. Pensate che noi come mercato dell'ortofrutta ad oggi abbiamo soltanto tre operatori. Quando 27 anni fa fu trasferito il mercato dell'ortofrutta a Contrada in Corvina erano 8. L'obiettivo di questa amministrazione è portare il mercato dell'ortofrutta a 6 operatori. Già abbiamo avuto un progetto anche approvato da parte dell'ASP. Ecco quando si dice che cosa può fare un'amministrazione per supportare gli indotti economici deve fare questo. Ad accogliere la ministra oltre al sindaco Filippo Tripoli, l'assessore regionale all'agricoltura dello sviluppo rurale della pesca mediterranea Eli Bandiera, il senatore della Repubblica Davide Faraone, il presidente del consiglio comunale Michele Sciortino, gli assessori comunali Brigida Alaimo ed Emanuele Tornatore e diversi altri consiglieri comunali. I nostri sono territori che come sappiamo partono da una situazione di difficoltà perché l'agricoltura e la pesca vivono una crisi che è strutturale e che è pluridecennale. La regione sta facendo la propria parte, come non citare ciò che abbiamo fatto in termini di accelerazione della spesa del programma di sviluppo rurale, 50 milioni di euro in più certificati rispetto all'obiettivo che ci dava Bruxelles. C'è bisogno che il governo nazionale guardi alle realtà del territorio, alle emergenze e alle esigenze per accompagnare questo percorso che è in linea con quello che si sta facendo anche qui a Bageria e cioè una regione che punta dritto su un modello di sviluppo che faccia veramente leva su quelle che sono le realtà, le potenzialità, le eccellenze del territorio tramutando tutto ciò in occasione di sviluppo economico e quindi occupazionale e quindi sociale. Questo è un territorio importante, teniamone conto, cerchiamo tutti di collaborare insieme per creare opportunità. Vi aspettate magari un aiuto da parte dello Stato? Lo Stato deve dare un aiuto all'agricoltura tutta, non soltanto quella di Bageria. Noi abbiamo delle difficoltà oggettive e strutturali, noi ci aspettiamo questo allo Stato che riesca a risolvere qualche criticità strutturale che abbiamo nel nostro territorio.